Fino a pochi anni fa la motosega era soltanto il mezzo per tagliare la legna oggi è diventato anche lo strumento di un artista l'imprenditore agricolo Fabio Pini ha scoperto questa passione che lo ha portato ad esibirsi in eventi nazionali e anche oltre i confini cremasco di origini trasferitosi a Vernasca nel Piacentino da ormai 15 anni grazie alla motosega da un animal legno trasformandolo in animali, figure umane, personaggi di fantasia La scultura motosega è un tipo di scultura, sicuramente una forma di arte però è una forma di arte molto istintiva perché è proprio la velocità con cui permette questo strumento di far nascere l'opera è poco accademica, è molto istintiva appunto e lavora proprio sull'emozione, sull'impatto che poi una persona magari passa la mattina vede un tronco in un'esibizione, dopo qualche ora vede che sta nascendo un qualcosa allora gli parte la fantasia di vedere cosa sta uscendo e proprio anche lo chiamano proprio l'effetto wow c'è questo impatto proprio scenico Nei mesi scorsi Fabio Pini ha creato una scultura per gli alpini di Morfasso mentre l'opera più recente è stata realizzata in Val d'Aosta dove insieme a un altro scultore ha creato una panchina con Peter Pan e Capitan Uncino Qual è la sensazione che si prova scolgendo il legno? Si susseguono una serie, da quando si inizia, una serie di ore di fatica intensa perché comunque l'attrezzo è pesante però si entra come in uno stato diciamo parallelo dove non si dà più attenzione a quello che succede intorno ma si è proprio tu per tu con questo legno che comunque non è mai morto che ha un suo tra virgolette spirito e si cerca noi di far uscire questa anima a secondo la forma desiderata quindi è un continuo rimanere in questo stato di attesa che esca quel volto piuttosto che quel particolare Tra gli scultori famosi in questo settore c'è anche lo scrittore Mauro Corona